via Chiama i carabinieri, chiama i carabinieri, chiama i carabinieri, siamo in emergenza. Chiama i carabinieri, 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 chiama i carabinieri al furbinetto e non trovare l'acqua che è, come sta accadendo adesso in Sicilia, quasi un milione di persone, se tutto ciò vi sembra brutto vi decolo, e voi chiedetevi se questa vernice è così brutta, non è un po' problema, non è un po' problema, certo. Ma se non ando a metà a metà vero, guarda le cose che servono, non stai cazzando, guarda le cose che servono a metà vero. Stiamo a metà a metà vero, guarda le cose che servono a metà vero. in Sicilia ci sono migliaia di persone con la corazionale letteralmente dobbiamo impedire questa cosa vai attenti alle braccia, attenti attenti alle braccia